Ho preteso dal teatro di Torino di cui ero direttore e dalla compagnia di Luca De Filippo che producevano lo spettacolo di provare e debuttare al Nesta, a San Giovanni a Teduccio, in questa piccola sala di cento posti che nonostante abbiamo potuto debuttare chiaramente in teatri molto più grandi, dovunque eccetera, ma io volevo invece che finalmente si varcasse quel muro che sembra sempre dividere la nostra città in parti diverse e ci si unisse nel nome appunto di Edoardo De Filippo. Un riconoscimento della città al regista Mario Martone e agli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, vincitori del Leoncino d'Oro e del premio Pasinetti 2019 alla 76esima mostra del cinema di Venezia col film Il Sindaco del Rione Sanità, tratto dall'omonimo lavoro di Edoardo De Filippo. Lo stesso Martone aveva diretto lo spettacolo teatrale al Nesta di San Giovanni a Teduccio. La gioia negli occhi di questi ragazzi, alcuni di loro, qualcuno vende le piante a Milano per esempio da ambulante, trovarlo sul red carpet e vedergli negli occhi tutta la gioia, il cuore che pulsa, credo che poi quello è l'obiettivo soprattutto del Nesta, poi per degli artisti, per degli attori come noi, insomma è una felicità immensa. Però quello è merito dei ragazzi del Nesta, di aver accorciato la città, di aver avvicinato la periferia perché l'integrazione che fanno è reale, non c'è retorica, è molto pratica e la dimostrazione è che i ragazzi stavano sul red carpet a Venezia. Alla cerimonia a Palazzo San Giacomo, condotta dall'assessore alla cultura Nino Daniele, erano presenti anche alcuni esponenti della produzione. Tutta l'operazione nasce quattro anni fa, come voi sapete, per volontà della compagnia Nesta e dal coraggio del grande Luca De Filippo, che va tutta la mia stima e l'affetto, poi insomma ha continuato Carolina Rosi, che è il boss della LDF, che ha deciso di mettere in scena questo, prima lo spettacolo, poi coprodotto anche il film insieme a Indigo e Malia, con lo sabbile di Torino. Un drammaturgo come Edoardo è immortale e va riproposto sempre, i testi teatrali, i testi dei grandi autori si fanno, non si tengono nel cassetto, altrimenti diventa un libro, diventa letteratura, diventa altro. Sono molto contento che la genesi, il germe di questo film, nasce a teatro, al NEST, nel quartiere San Giovanni, quindi vuol dire che la periferia di Napoli pulsa, è attiva, è piena di energia, piena di giovani, quindi non è una cultura del centro storico, è una cultura della città di Napoli. Oggi abbiamo voluto dare un riconoscimento formale della città, appunto alla produzione, che ha puntato su questo capolavoro, a Mario Martone, Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, ma in realtà si estende a tutto il cast, agli altri attori, alle altre attrici. Beh, insomma, Napoli ormai a livello culturale non è secondo a nessuno in Italia, è primeggia nel mondo, anche il livello di produzioni che si girano a Napoli, il dato statistico parla da solo, dal 2015, da quando abbiamo costituito l'Ufficio Cinema, sono stati girati mille film in meno di quattro anni. Siamo molto contenti perché tutto questo produce anche lavoro ed economia. Il film sarà al cinema come evento speciale dal 30 settembre al 2 ottobre.